Dopo quasi mezzo secolo di cultura, ma anche di stenti e richieste di fondi pubblici non sempre accordati o garantiti, i premi Flaiano parlano direttamente al cuore, al cervello e al portafogli dei tanti che li seguono. La cultura merita tutta di essere sostenuta, balza un po' agli occhi la sproporzione fra tutte le altre e l'ultima della classifica che sono i premi internazionali Flaiano e anche il Mediamuseo, ma un totale di 20.000 euro fra le due a fronte di cifre anche un po' più importanti. Siamo qui da 49 anni, quindi non possiamo assolutamente permettere che i premi Flaiano subiscano una flessione. Il nostro target è molto elevato, credo che sia il più elevato delle state pescaresi tra i più elevati di quello abruzzese. Quindi abbiamo pensato, invece di lamentarci sempre, abbiamo pensato di attivarci, di chiedere aiuto al pubblico del Flaiano, ai pescaresi, agli abruzzesi, a chiunque vorrà darci una donazione, minima, piccola o grande che sia, per consentirci di poter svolgere la 49esima edizione dei premi Flaiano. Questo continuo dover chiedere, dover chiedere la location, dover chiedere i contributi, andare sempre a chiedere. Credo che sia abbastanza umiliante che una realtà culturale così importante, così importante per il territorio, ma così importante anche per l'economia, perché ha una grandissima ricaduta sul territorio, perché i premi Flaiano portano il mondo a Pescara, debba subire queste continue attese. Noi stiamo già lavorando alla 49esima edizione da alcuni mesi, continuiamo a lavorare sempre con la dovuta serenità, perché siamo felici di dare questo evento a Pescara e all'Abruzzo, ma evidentemente dobbiamo essere sicuri di poter conservare il target elevatissimo dei premi Flaiano e sapete come si dice, aiutati che Dio ti aiuta, ci stiamo aiutando. Pescara non è solo d'annunzio, Pescara è d'annunzio ed è mio Flaiano. L'anno scorso avevate avuto i 45 mila di euro, quest'anno 10 mila, quindi ne mancano all'appello. Quei soldi che mancano all'appello sono appunto quelli che chiedete ai cittadini. Donazione minima anche di? Un euro, un euro, ognuno può donare ciò che riesce a donare. Spero che il Consiglio Comunale, quando voterà il bilancio, abbia la possibilità con un emendamento presentato non so da chi, di poter rivedere questa somma che è assolutamente irrisoria rispetto all'anno scorso.